In questa puntata di Vivere in Salute ci occupiamo del servizio di psicologia attivato presso la nostra azienda sanitaria grazie alla Lilt e destinato ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Ma avremo anche i consigli del medico per affrontare il caldo con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione come bambini e anziani. Dalla 2008 attraverso una borsa di studio è stata attivata una collaborazione tra il servizio di psicologia e la Lilt a sostegno dei malati oncologici, delle loro famiglie e del personale infermieristico. Come viene attivato questo servizio? Naturalmente con l'identificare la dottoressa psiconcologa chiaramente del settore e quindi viene fatta questa borsa di studio che la Lilt stabilisce con la dottoressa una quota e il numero delle ore che dedica a questo servizio e quindi viene fatta la borsa di studio. Un servizio attivo per lo più a Domodossola con una giornata anche su Verbagna. Quali sono i numeri? I numeri sono diciamo che nell'anno si arriva al migliaio, 900-950 interventi, prestazioni. Un sacrificio economico per la Lilt ma un servizio che è stato fortemente voluto? Sì, è sì un sacrificio economico specialmente di questi tempi ma comunque è un servizio utile e indispensabile ed è importante riuscire a mantenerlo e noi speriamo di poterlo fare anche nel futuro. Molte delle persone che vengono seguite da questo servizio sono donne operate al seno? Direi una buona parte sì è un pubblico femminile, sì. Perché? Ma perché forse nella nostra oncologia viene molto seguita questa patologia e anche noi come Lega Tumori ogni anno facciamo il mese di ottobre le visite senologiche di prevenzione gratuite e quindi poi facciamo la nostra camminata e diciamo che le prenotazioni dovrebbero essere per il mese di ottobre ma in genere finiscono a dicembre perché sono talmente tante le richieste che dobbiamo per forza seguire. E diciamo che nel 2012 abbiamo avuto anche l'apporto dei medici oncologi che le hanno fatte gratuitamente e quindi è stato un bel aiuto per noi. Dottore perché è così importante questo servizio per i pazienti oncologici? Perché la patologia oncologica è un evento drammatico nella vita di una persona, del malato ma anche della famiglia. Quindi inevitabilmente è una patologia quella oncologica che ci ha dato il rischio psicologico, psicopatologico. Come si accede a questo servizio? In maniera molto semplice o il paziente può chiamare direttamente il servizio di psicologia oppure attraverso il CAS oncologico che segnala al paziente l'esistenza di questo tipo di possibilità. Quello che noi abbiamo fatto per semplificare il più possibile la domanda al paziente è di cercare di dare una risposta e ce la facciamo nel giro di una settimana, non oltre una settimana. Questo perché comprendiamo l'urgenza della domanda e quindi ci siamo organizzati in termini organizzativi per dare una risposta il più rapida possibile a questa urgenza. Una cosa importante, anche gli operatori, gli infermieri per esempio possono utilizzare questo servizio? Chiunque. Chiunque è un servizio a sostegno in primis di pazienti e i loro familiari. Però ci possono essere momenti formativi, ci possono essere momenti in cui qualsiasi operatore ha delle difficoltà relazionali con un paziente relazionali nel senso esistenziale del termine, nel senso che la patologia oncologica mette a contatto il tuo operatore con la tua paura di malattia. Ognuno di noi ha paura della malattia, non è che chi lavora della malattia abbiamo paura da tutti e quindi anche loro possono fuori di questo tipo di servizio. Una collaborazione importante quindi quella con la LIT che ormai viene portata avanti da tanti anni? Direi fondamentale. Come dicevo prima è fondamentale perché grazie a questo sostegno che la LIT ci dà noi riusciamo a dare un sostegno psico-oncologico, si chiama il termine tecnico, ai nostri pazienti e ai loro familiari. È bene accompagnare la calura estiva ad una serie di precauzioni per affrontare il sensibile aumento di temperatura reso ancora più gravoso a volte da un elevato tasso di umidità. Un discorso a parte meritano poi le fasce più deboli della popolazione. Dottor Di Stefano, in che modo è possibile aiutare il nostro organismo ad affrontare la calura estiva? Allora, innanzitutto cercando di esporsi il meno possibile alle temperature più alte durante la giornata, quindi evitare di uscire a quando è possibile, soprattutto rifletto agli anziani che hanno magari possibilità di organizzare la giornata in maniera un pochino più libera, di uscire nei momenti un pochino più freschi, quindi alle prime ore del mattino e dopo la calura del primo pomeriggio. Sicuramente un punto importante è anche quello di curare un'adeguata idratazione. Ricordo proprio che nelle persone anziane è meno presente il senso della sete, quindi sono portati proprio per una modifica che c'è legata a molte variazioni che si hanno con l'età ad assumere meno liquidi. Questo chiaramente li espone a un maggior rischio di disidratazione, quindi il consiglio è quello di, ripeto, uscire nelle ore più fresche e di bere, bere acqua. Oltre quale soglia di temperatura bisogna stare attenti, allerta? Io più che dare un riferimento termometrico direi che proprio in linea di principio, soprattutto nelle giornate particolarmente calde, quando si avverte in maniera evidente questo disagio, bisogna avere maggiore attenzione. E come regolarsi con l'aria condizionata? L'aria condizionata è un supporto sicuramente che aiuta molto ad affrontare il caldo. Qualche anno fa, quando ci fu l'estate torri del 2003, uno dei consigli che veniva dato era proprio di recarsi per le persone che non avevano a casa questo tipo di supporto, di recarsi all'interno dei supermercati perché erano locali con aria condizionata. Quindi sicuramente è un presidio utile. La cosa che bisogna fare è di non utilizzare temperature troppo basse, troppo differenti dalla temperatura esterna e magari staccarla un attimino, soprattutto prima di scendere dall'auto, per esempio, oppure prima di uscire in modo tale da acclimatarsi un pochino a quello che sarà poi il contatto con un'aria ben più calda. Ci sono delle patologie che vengono aggravate dal caldo, dalla canicola estiva? Sicuramente il rischio maggiore ce l'hanno le persone che hanno più malattie, più malattie croniche. che generalmente sono lo scompenso cardiaco, il diabete, problemi di tipo renale o respiratorio. Queste sono le patologie più a rischio, ma perché sono patologie che espongono a rischio anche per molte altre condizioni le persone. Un punto che può essere correlato a una patologia che aumenta il rischio è l'utilizzo di farmaci che aumentano l'eliminazione di urine, i famosi diuretici, perché nel periodo estivo possono esporre più facilmente a uno stato di disidratazione. Quali sono i sintomi per capire che si è affetti dal troppo caldo? Diciamo che ci sono vari gradi, da quelli più semplici e più banali di qualche crampo che generalmente si risolve integrando dei sali minerali e stando un pochino a riposo. Situazioni ben più importanti fino ad arrivare al colpo di calore che è praticamente l'effetto della perdita della capacità dell'organismo di smaltire il calore. E quindi addirittura si smette di sudare, si può avere un'ipotenzione importante, cioè si abbassa la pressione, si possono avere collassi ed è una situazione da considerare un'emergenza medica. La cosa importante da dire è che a differenza del colpo di sole, che è un effetto dell'esposizione di rete ai raggi solari, che ha anche lì vari gradi di intensità, il colpo di calore può avvenire anche esponendosi semplicemente a un ambiente caldo. Come si possono affrontare? Il colpo di calore è una situazione estrema rivolgendosi, chiamando rapidamente i servizi dell'emergenza. Come si dice, è facile fare riferimento a questo, in ogni campo della medicina è più facile prevenire che non curare, quindi evitando quelle condizioni che possono mettere a rischio le persone. Le situazioni meno importanti possono essere risolte aumentando l'idratazione, ponendosi all'ombra in un luogo fresco e refrigerato. Abbiamo detto all'inizio, soprattutto per gli anziani, evitare gli orari più caldi della giornata, vivere la propria vita quotidiana sfruttando le ore del mattino o quelle della sera. Qualche altro consiglio per le persone con i capelli grigi e per chi li aiuta? Sull'alimentazione credo che sia un punto importante. Ribadisco il problema che abbiamo fatto scendo prima dell'assumere adeguate quantità di liquidi, di rivedere non autonomamente le terapie quando ci sono di mezzo diuretici o farmaci per la pressione, il cui effetto può essere accentuato dal caldo e aumentare la quota di verdure e di frutta che si assume durante la giornata. Questo in breve possono essere dei consigli che però se sono rispettati possono essere veramente di grande aiuto. Evitare anche l'assunzione di superalcolici e alcolici? Sì, questo io non l'ho detto perché presumevo che fosse il buon senso a portare a questo tipo di deduzioni. Chiaramente vanno evitati. Spesso durante il periodo estivo si accentua la sensazione di solitudine soprattutto per le persone anziane. Cosa devono fare le persone con i capelli grigi che sono per di più anche da sole? Ma queste persone sicuramente hanno una condizione di fragilità maggiore. Il consiglio a loro le abbiamo già date quindi rispettare quello che abbiamo detto. Quello che mi viene da suggerire per i parenti che magari vivono lontani o che sono ancora presi da attività lavorative o si allontano per le ferie è comunque di tenersi in contatto, di farsi sentire spesso perché anche semplicemente con la telefonata si può rilevare un problema che preso in tempo può essere risolto molto più facilmente. Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114, connettervi al sito www.aslavco.it oppure scrivere a vivere in salute chiocciola aslavco.it, indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimo.